Continuiamo il nostro giro per i presepi isolani che man mano stanno prendendo vita in tutti i comuni dell'isola Dischia. Adesso ci troviamo a Dischia Ponte con il presepe dello Stradone. Abbiamo qui Pasquale che è tra gli artefici di questo bel presepe. Allora, prima di tutto, quale sarà l'impronta di quest'anno? Beh, sempre il presepe ischitano perché abbiamo un po' pure gli altri sull'isola, ma diciamo sempre il presepe ischitano, la cantina, i vari terrazzi, le famose parracine, i luoghi dell'isola, l'architettura delle case, il collo d'oca, le casette di campagna a Lambia Volta o a Carusiello, a Tonda. Allora, diciamo, termini che secondo, come sappiamo, derivano dalla prima colonia greca che è stata Ischia Pitecusa nel 770 a.C. I luoghi, dicevo, come i Pizzi Bianchi, il Monte Momeo in alto a sinistra, la Casa nella Pietra, l'Acquedotto del 1700, i famosi pilastri, i personaggi. Sì, e quest'anno, questo presepe, qui dove i numeri e gli anni passano, passano anche in fretta, siamo arrivati a 22 anni solo qui, in questo luogo. Poi, io ho iniziato prima, nei primi anni 80 e quindi, dicevo, è un popolo in cammino, il titolo del presepe, dove abbiamo San Giovanni Giuseppe davanti e il popolo che cammina anche in preghiera, perché poi questo è il presepe, è una preghiera. Ecco, insieme a te sta lavorando qualcun altro o sei solo in questa fatica? No, diciamo, c'è Rosario Scotto di Minico, Luigi Iagono, Pasquale Iodice, Michele Di Meglio, diciamo, siamo diversi, che poi stiamo coordinando un po' tutte le attività natalizie, non solo il presepe, come sappiamo, ma siamo arrivati al diciottesimo itinerario.